Murigno dice, tre anni fa la proprietà del Milan mi ha cercato, ma io ho rifiutato e sono contentissimo di averlo fatto. Giuseppe, anche noi, anche noi, tu non hai idea di quanto noi siamo contenti che tu abbia rifiutato la panchina del Milan. Ed è strano da dire, almeno per me, perché udite udite, so che qualche milanista si incazzerà per questo, ma io sono sempre stato un grande fan di Giuseppe Murigno. Cioè, nonostante sia stato veramente uno degli allenatori che calcisticamente mi ha fatto più male in assoluto, perché, come diciamo noi in Sicilia, li colliri che mi ha dato Murigno, cioè, nessuno mai, perché proprio mi ha fatto patire in maniera tremenda, però io sono sempre stato un grande fan, in primis perché l'ho sempre considerato un genio. Cioè, a livello calcistico, secondo me, è stato realmente uno degli allenatori migliori del mondo, a suo tempo. Però ormai, cioè, ormai è veramente la parodia di se stesso. Cioè, dopo ogni partita... Eh, ma io, no, io tre anni fa potevo andare a Paperopoli, però ho rifiutato. E poi, eh, ma là c'è il rigore, là, no, lì c'era il rigore. Quello che sta al VAR, quello che sta al VAR, non lo so, ce l'ha con noi, non so per quale motivo. Eh, ma lì c'era un rigore. Poi cambia partita. Eh, ma io tre anni fa, io vent'anni fa potevo andare lì, però non l'ho fatto. Non l'ho fatto perché Roma è sempre stata nel mio cuore e nel mio animo. Romanisti, romanisti amatemi, alla Gianni Celeste di... Cioè, non... Non lo so, è... È brutto, cioè, ragazzi, è veramente brutto. Cioè, io poi ho capito il giochetto, ho capito che cosa vuole fare lui. Cioè, lui vuole tenersi buoni romanisti perché i risultati al momento non stanno arrivando. E lo posso capire. Però, cioè, prima o poi i romanisti si sveglieranno. Cioè, io penso che prima o poi i romanisti si accorgeranno che la Roma dal punto di vista del gioco è una cosa aberrante. Cioè, io l'ho vista ieri più qualche altra volta. Qualche partita della Roma l'ho vista quest'anno. Ragazzi, ma ogni partita della Roma che ho visto c'è un pianto greco. Ogni volta un pianto greco. Cioè, anche le partite proprio vinte. Vinte bene. Cioè, ma è proprio una roba brutta. Ma brutta la Roma. Brutta. Cioè, l'anno scorso proprio hanno crocifisso Fonseca perché Fonseca era il male di tutti i mali. Era quello che non poteva circolare. E Fonseca capisce in cazzo. Cioè, e poi... Cioè... E poi che cosa scopri? Scopri che Fonseca faceva più punti rispetto a quelli che sta facendo Murigno. Che Fonseca almeno con le piccole vinceva. Perché Murigno, ok, avrà fatto qualche punto in più negli scontri diretti. Sì, neanche tanti forse. Perché ha vinto a Bergamo poi tutte perse. E poi... Eh, però Fonseca... Noi con Fonseca piavamo un botto de go. Ora arriva Murigno. Con Murigno la difesa diventa fantastica. Sì, però poi vedi la difesa. Prendono più gol quest'anno. Tre gol a partita pure quest'anno fissi. Cioè, quindi cosa ha portato Murigno alla Roma ad oggi? Io ho capito che su Murigno c'è un discorso pluriennale che va fatto. Però... Cioè, ad oggi non ho sinceramente argomenti per salvare la Roma di Murigno. Sì, il Carà è vero. Ha più carattere rispetto all'anno scorso. Perché nonostante le poche idee, è una squadra che ci prova sempre fino alla fine. Però ci prova con le armi sbagliate. Ci prova con le armi sbagliate. E menano come fabbri. Falli a destra e a sinistra. Cioè, e poi si lamentano che finiscono in nove. Ma grazie al cazzo. Cioè, Car... Che come cazzo si chiama? Carsdorp andava espulso mezz'ora prima. Poi grazie che dici rimangono in nove, in dieci. Ma se giochi in questo modo che t'aspetti? Vigna ha fatto diventare Messias Ronaldinho Prime. Non lo so. Cioè, io faccio fatica. Faccio veramente fatica a capire il discorso. Però capisco anche il perché Murigno debba andare a toccare il cuore dei tifosi della Roma. Più o meno. Perché al momento argomenti tecnici, ragazzi, come fai a toccarli? Che non c'è veramente niente da salvare qui dentro. Però non potrà andare avanti in questo modo. Prima o poi qualcosa di concreto, oltre alla retorica in pasto ai romanisti, la dovrà dare. Perché se no, anche a Roma finirà come è finita il Tottenham. Finirà come è finita tutte le ultime esperienze di Murigno. Che sono state tutte un pianto. Dalla prima all'ultima. Questo è, secondo me. Poi piccolo video of topic. Io mi scuso, lo so che solitamente non parlo di Roma, di altre squadre e cose del genere. Però, cioè, l'ho voluto fare sto video perché riguarda uno degli allenatori che sinceramente mi piaceva di più. Proprio fino a qualche anno fa, veramente, era uno dei miei allenatori preferiti in assoluto. Cioè, e vedere sti spettacoli dentro e fuori dal campo, anche da avversario, un po' disturba. Tutto qui. Fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate con un commento. Ragazzi, sempre Forza Milan. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.